Salve a tutti, questo è il primo tentativo di registrare un video con il tablet Asus che mi è stato regalato per la mia laurea, un dottore. Allora, oggi tratterò un argomento su cui non mi sono mai cimentato, però raccolto alcuni dati statistici qualche tempo fa e mi sono sempre chiesto perché non sono mai riuscito a fare un video del genere. L'iguale tennis, ne approfitto, visto che, vabbè, è scoppiato lo scandalo, però sta partendo la stagione tennistica con l'Australian Open. Allora, dal 2010 al 2015, per sei anni quindi, l'Italia ha sempre vinto un torneo dello Slam, uno dei quattro più importanti, quindi l'Australian Open, l'Open di Francia, cioè il Roland Garros, il torneo di Wimbledon, chiamato anche The Championship, e l'O.U.S. Open. è sempre uscito a portarsi a casa almeno uno Slam, e sempre l'hanno vinto le donne, tranne in un caso in cui l'hanno vinto gli uomini, ma nello stesso, cioè nel 2015 sono tornati alla vettura gli uomini, ma comunque nel 2015 hanno vinto le donne, quindi hanno sempre vinto le donne, che hanno, stanno portando grande gloria al tennis italiano. eravamo rimassi ai Pietrangela, ai Panatta, e ora con le donne, tutto a partire da Francesca Schiavone. Nel 2010 vince il Roland Garros, terza tenista dopo, appunto, Pietrangeli, Panatta, prima donna a vincere un torneo dello Slam, ancora una volta il Roland Garros. La Pennetta, che l'anno prima era stata la prima donna a entrare nella Top 10, vince il WTA Championship. Si tratta dell'unica affermazione in questo tipo di torneo, tra singolare e doppio, maschile e femminile, ovviamente maschile e l'ATP Finals, vince ovviamente nella categoria doppio. e nella categoria doppio, l'anno dopo, parte alla grande, vincendo l'Australian Open e poi conquistando la prima posizione del Rekin Mondiale. Mente la Schiavone, la settimana prima della finale del Roland Garros, sale addirittura al quarto posto, guagliando il record di Panatta, mentre Pietrangeli, prima dell'era Open, era arrivata addirittura al terzo posto. La Schiavone poi perde la finale del 2011 del Roland Garros e scende al settimo posto. Poi nel 2012 Sara Errani compie un'impresa simile a quella di Pietrangeli, che nel 59 raggiunse la finale del Roland Garros sia al singolare che al doppio. Le vinse entrambe. L'Errani invece perde la finale singolare, quindi terza finale consecutiva per l'Italia a Roland Garros nel singolare femminile, e vince quella del doppio, dove è con Roberta Vinci. Con Roberta Vinci vince anche lo US Open e sale al primo posto della classifica mondiale e all'inizio del 2013 vince l'Australian Open. Si tratta dell'unico caso nella storia in cui tenisti italiani hanno vinto due tornei dello Slam consecutivi. Anche se sono in due stagioni differenti, sono consecutivi. Era l'ultimo Slam del 2012 e il primo del 2013. Nel 2014 nuovamente l'Australian Open e vittoria a Wimbledon. Si tratta della prima affermazione assoluta dell'Italia a Wimbledon. E con questa affermazione, Sarerani e Roberta Vinci entrano nell'opero delle tenniste capaci di realizzare un grande Slam Carre, seppure nel doppio. Cioè, tenniste capaci di vincere su tutte e quattro principali tornei dello Slam, ovviamente nel doppio femminile. Quindi, il grande Slam Carre non trova il momento migliore, cioè non il momento migliore. Arriva con la vittoria più importante, perché Wimbledon era l'ultimo torneo che mancava, l'ultimo tassello, e soprattutto era il più importante, il The Championship, quello che legge i migliori tennisti al mondo. La coppia si scioglie perché Lerrani vuole puntare più sulla carriera da singolo, Stato Stano però nel 2015 sarà la Vinci invece a tenere una finale nel singolo. Nel 2015 Fognini, il fidanzato della Pennetta, riesce a riportare l'Italia a una vittoria di uno Slam. Non accadeva dei tempi negli Slam tra i maschi, ne hanno accadeva dei tempi di Panatta che vinse il Roland Garros nel 1976. Fognini vince l'Australian Open nel doppio maschile, a distanza quindi di 39 anni dall'impresa di Panatta nel 1976 al Roland Garros. E vince dove aveva vinto 4 anni prima la sua fidanzata. Il 2015 si apre in questo modo e si chiude nel modo più esaltante. Se pensavamo che il tennis italiano non potesse toccare vertici superiori alla vittoria di Wimbledon, nel 2015 Roberta Vinci e Flavia Pennetta ci regalano qualcosa di unico, una finale tutta italiana in un torneo dello Slam nel singolare. Si contendono il singolare femminile dello US Open e alla fine la spunta alla Pennetta, che diventa quindi l'unica tenista italiana a vincere uno Slam sia nel doppio sia nel singolare. E quindi a questo novero di vittoria dobbiamo aggiungere le due Federation Cup vinte dall'Italia nel periodo del 2015, ovvero nel 2010 e nel 2013. C'è da ricordare che l'Italia ha vinto anche l'edizione del 2006, del 2009, nel 2007 arriva in finale, quant'altro. Mentre la nazionale maschile ritorna nel World Group, nel 2014 arriva fino in semifinale, quindi ha un pasto da una finale che manca dal 98. Ricordiamo che l'Italia aveva avuto una sola affermazione in Coppa Davis nel 1976, quanto Panatta vinse l'internazionale d'Italia, il Roland Garros e poi addirittura la Coppa Davis. Quindi le donne sono grandi trascinatrici. Prima del 2010 nessuna donna aveva mai vinto un torneo dello Slam, ma adesso sono le teniste più forti. Francesca Schiavone è l'unica donna italiana, l'unica tenista italiana, aveva centrato due finali dello Slam nel singolare. Nel 2010 ha vinto il Roland Garros, nel 2011 ha verso la finale. Roberta Vinci e Sale Ragni hanno conquistato il grande Slam Carri, vincendo cinque tornei dello Slam in tre anni, dal 2012 al 2014. Quattordici e hanno entrambi una finale di uno Slam perso a testa. Mentre Favapennetta è l'unica tenista ad aver vinto un torneo dello Slam nel singolare, un torneo dello Slam nel doppio, e l'unica tenista, anzi tenista maschio, femmina, in CNA italiana, ad aver vinto un campionato, un VTA Championship nel 2010 per il singolare femminile, però è l'unica in tutte le categorie ad aver vinto uno di questi titoli. Sia la pennetta che le Rani che la Vinci sono salite al primo posto nella classifica del singolare femminile, quindi primo posto mondiale. Quindi, grandi gioie, grandi riconoscimenti. C'è da dire una cosa, che alcune di queste imprese le aveva da sole realizzate Pietrangeli. Pietrangeli ha vinto quattro Roland Garros, uno nel doppio misto, due nel singolare e uno nel doppio. abbiamo detto 2010-11-12, tre finali consecutive a Roland Garros, cosa che fece lo stesso Pietrangeli, tre finali consecutive nel singolare maschile, vincendo le prime due e perdendo l'ultima, quella del 61, che c'è il 59-60 e il 61. Poi abbiamo detto, la Rani è riuscita a centrare la finale sia nel singolo o nel doppio, ha vinto quello nel doppio ma ha perso quello nel singolo. Bene, Pietrangeli nel 59 riuscì a vincere entrambe, tanto che si meritò l'appellativo di campione del mondo su terra battuta. Quindi, io spero di non avervi annoiato, non sono un esperto ai tennis, ho raccolto soltanto qualche dato, mi ha incuriosito molto, perché ho notato un netto miglioramento. E, ditemi voi, qual è il momento più importante del tennis italiano? Se è stata la vittoria della Coppa Davis nel 76, se è stata la vittoria della Federation Cup nel 2006, se è stata la vittoria del torneo di Wimbledon singolare, del doppio femminile nel 2014, o se è stata la finale tutta femminile, pennetta vinci allo US Open nel singolare femminile del 2015, e, io spero di non avermi annoiato, spero di avervi dato molte informazioni e curiosità, e che questo video sia piaciuto. Non penso di promettere nuovi video sul tennis, anche perché non è materia mia, lascio ad altri, ad esperti, e ad intenditori. Ciao a tutti!